Virtus che ci crede prova a dimenticare il derby, punta tutto sui prossimi ed ultimi 180 minuti. La lotta è serrata, la classifica vulsa in qualche modo premia i rossoneri, ma c'è da raggiungere le contendenti a quota 42, sperando che le altre non abbiano vita facile. Riflettori puntati su Modena e Latina, ma anche sul Livorno di scena ad Ascoli. Se i toscani dovessero retrocedere sarebbe più facile provare a vincere nell'ultima giornata, in caso contrario a giochi ancora aperti, l'impresa di conquistare 6 punti su 6 nelle ultime due partite diventerebbe molto più difficile. Comunque Mr. Maragliulo ha le prese con recupero mentale dei suoi per battere la Ternana sabato e poi rimandare ogni prospettiva all'ultima giornata. Allenamento nel pomeriggio per i rossoneri, seduta in piscina per Cragno di Matteo e di Francesco, lavoro personalizzato per Marilungo e Ferrari. Per Marilungo si aspettano notizie confortanti, sperando che la fascite plantare gli dia tregua. Per le condizioni di capitana Aquilanti c'è ancora da aspettare. Da primi esami strumentali si rileva un edema sul quadricipite destro. Per un esame più approfondito lo staff sanitario ha previsto una risonanza nella giornata di giovedì. La squadra ci crede, ma purtroppo non è più artefice del proprio destino. Nel primo anno di Serie B con Carmine Gautieri ci si salvò all'ultima giornata a Novara con un incastro incredibile di risultati favorevoli. La speranza è sempre l'ultima a morire, a patto che la Virtus ci metta del suo e soprattutto che vinca per due volte. Intanto nel gran galà dello sport relativo alla Serie B, in programma a Fiugi il prossimo 23 maggio, sarà premiato Federico Di Francesco per il gol più bello dell'anno. Premiata anche l'addetto stampa Federica Rogato per il miglior addetto stampa di tutta la Serie B. Complimenti a loro due. Complimenti a loro due.